Allora, voglio andare un momento dal professor Canfora, grazie Alberto. Professor Canfora, la guerra del gas, chiamiamola per semplificare e per capirci così, la guerra del gas è ai confini con paesi che noi tocchiamo con la mano, cioè i confini toccati, addirittura oggi si è interrotto lo spazio aereo su alcuni di questi paesi, sulla Repubblica Ceca, sulla Bulgaria e non ancora sulla Romania, ma sulla Polonia. Insomma, è alle porte. La guerra del gas, però, diceva giustamente anche Alberto Negri adesso, tocca interessi economici che riguardano anche i leader politici europei che dovrebbero combinare le sanzioni. Anche negli anni 30 furono, diciamo, le lobby furono timide con Hitler, ma Chamberlain non era in affari con Hitler. Adesso siamo in presenza di leader europei che sono in affari con Putin. Che cosa ne pensa, Professor Canfora? In realtà, Lord London Derry era anche in affari con i tedeschi, questo se vogliamo portare un piccolo ritocco all'informazione. Ma mi ha colpito, invece, molto mi ha interessato, un'osservazione fatta ieri, direi, da Romano Prodi sul Corriere della Sera, in una bella intervista molto ampia. Prodi conosce molto bene quelle vicende e anche la Russia attuale. Quando lui nota che la Germania ha voluto fortemente il gasdotto, quando la possibilità era che esso invece passasse dall'Ucraina. Quindi nota, diciamo, con lieve ironia Prodi, è un governo importantissimo dell'Unione Europea, quale quello tedesco, che ha optato per penalizzare a suo tempo l'Ucraina, che si sarebbe giovata di quel gasdotto. Quindi ora poi mandano le armi, va bene. Lo dico perché detesto la retorica. Credo che sia il nostro compito, nei limiti del possibile, capire e decifrare quello che accade. Schroeder è stato cancelliere della Repubblica Federale tedesca e non è un folle, a meno che noi ne vogliamo pensare che per anni la Germania sia stata governata da un folle, il che non è evidentemente. Quindi c'è un intreccio di interessi che si sono consolidati, al fondo però dei quali c'è un problema che non è piacevole forse evocare, ma gli studiosi di storia sono spesso alle prese con problemi di questo genere. Una sconfitta, quale è stata la fine della guerra fredda per la Russia, è stata una sconfitta verticale, ha avuto delle conseguenze geopolitiche e militari pesantissime. Allora, è possibile che una grande potenza accetti di essere declassata? Una vecchia intervista di Putin a Giulietto Chiesa culminava in questa considerazione. Esortiamo i nostri amici occidentali a rispettare la dignità del nostro Paese, cioè a trattarci su un piede di parità. Allora, portare la Nato fin sotto i confini, prima nel Baltico e ora prospettarlo, poi la Polonia, poi prospettarlo sull'Ucraina, è l'esatto contrario di quello che invece sembrava, per così dire, lo spirito di Minsk e di altri incontri precedenti. Tutto questo è nello sfondo. A questo si è aggiunto che da 30 anni non esiste più l'Unione Sovietica e i rapporti economici si sono infittiti, non si possono spezzare da un momento all'altro. E poi, in ultimo, c'è anche una questione storica molto delicata, cioè la conflittualità ricorrente tra l'Ucraina e la Russia, che è una storia che comincia molto indietro nel tempo. Potremmo dire, anche se può sembrare un po' fuori del mondo attuale, che quando il patriarca di Kiev accettò l'unione delle chiese, cioè di quella ortodossa e quella di Roma, e invece Bisanzio e Mosca non la accettarono, d'acque una solidarietà verso la chiesa di Roma da parte della religiosità e delle strutture ecclesiastiche ucraine in contrasto con quella degli ortodossi, diciamo, della sponda moscovita. Ma questo si inseriva in una origine comune molto stretta. I patriarchi di Costantinopoli chiamavano l'Ucraina Micrarossia, cioè la Russia piccola, e la Moscovia Megale Rossia, cioè la Russia grande. In tempi più vicini potremmo dire l'Ucraina si è trovata a schierarsi sempre con gli avversari, non so, la battaglia di Poltova, Carlo XII di Svezia, 1709, sta cercando di sconfiggere Pietro il Grande, e l'Ucraina sta con Carlo XII. Hitler invade la Russia e l'Ucraina gli spalanca le porte, non solo, si creano i battaglioni ucraini. Lei ha fatto benissimo a ricostruirci anche la particolarità delle ragioni del conflitto tra l'Ucraina